Ciao a tutti e bentornati su Football Manager 2018, bentornati alla nostra partita con lo Shandong. Oggi affrontiamo lo Yanban, una partita sulla carta abbastanza facile, con qualche cambio perché abbiamo avuto due piccoli infortuni, ma niente di grave. E poi andremo a vedere come vanno i campionati principali, perché oggi d'altronde è mercoledì e quello riporta l'abitudine. Finito il periodo di fine campionato scorso, dove obiettivamente le cose si erano un pochettino mischiate, riprendiamo le buone vecchie abitudini. Allora, il Kudo scommette sulla forma di Yudabao, più o meno. Insomma, abbiamo perso purtroppo Nicolas Freire e Mateus Vital, il secondo per pochissimo, Nicolas Freire invece per due o tre settimane. Meddur interessato per la Nazionale Argentina, l'Algeria, scusatemi. Ah. Beh, non è un brutto giocatore. Potrei convocarlo magari, vedremo. Vedremo quando si riparlerà dell'Algeria. Riduce l'intensità, sì, in effetti no, alto no, è ancora è alto. A livello di intensità facciamo un medio, scusatemi, di base. Siamo sull'affiatamento squadra, quindi sì, va bene. Mentre qua mettiamo pure un alto, tanto quelli che ci sono ancora dovrebbero essere abbastanza tranquilli. Credo che tanti in realtà andranno con loro nazionali, e quindi in realtà non ci sarà tutta questa preparazione, ma noi non ci sputiamo sopra. Che formazione hanno esattamente? Quanto è spaccata? Faranno dei gran lanci lunghi o conteranno molto sulle ali che corrono molto, perché altrimenti non so come fare, come possano fare. Addirittura quattro giocatori. Elia, Yu Dabao, Liu Junsai e Zeng Zeng. Però. Bravi, bravi ragazzi. Allora, pronostico tutto per lo Shandong, beh vorrei ben vedere. Questi l'anno scorso, ma il trato stavano retrocedendo l'anno scorso, li sono salvati all'ultimo probabilmente. No, l'unico che ti faccio giocare è lui, finché non informa 90 minuti. Indisponibile, indisponibile Liu Junsai e indisponibile Meshak Elia. Continua. Questa credo che se la giocherà in realtà Liu Bin Bin. Perfetto, test fisici Zeng Long l'ha passato, più o meno, sì. Allora, Guangzhou giocherà contro lo Shanghai Sip e il Weixar Xin fu contro lo Yangsu, che l'anno scorso era una gran formazione, quest'anno credo sia tornata un pochettino nella norma. Allora, Zhang Zizia al posto di Mateus Vital, che ci portiamo dietro ma in realtà sarà riserva. Difensore centrale Zhang Zou al posto di Nicholas Freire, che togliamo proprio dal tutto. Mettiamo Liaoli Sheng al posto di Wen Jiabao, che povero Cristo non ce n'è a più. Mettiamo Liu Bin Bin al posto di Elia. Ma sì, va, così facciamo giocare anche una partita a lui, però ce lo portiamo dietro. Mettiamo Zeng Long, no, perché non ce la fa. Voglio far riposare, mettiamo Tang Miao, c'è Yasir Al Shrani. E mettiamo Gonzalo Carnero davanti e Yan Zi Hao di qua. Bom, non lasciamo Xiao Wei, ma mettiamo, no, Zeng Zeng, poveretto, no, Zeng Long. Anche lui in realtà ha appena ripreso, quindi direi che no. Wen Jiabao ce lo portiamo comunque in panca al posto di Mateus Vital, che questa volta recupera solo. Spogliatoio, parla la squadra, siamo i favoriti, andate in campo e fate cantare i tifosi. Mi è venuto un piccolo dubbio sulle tattiche, di fatti l'ho messo falso 9 e invece lo mettiamo punta completa. Conferma modifiche. Poi, passiamo pure in offensiva, questi sono ben più deboli. Si riparte dalla nostra difesa. Liu Jun Shai, Yan Zi Hao, Hao Jun Min, perdiamo il pallone. Steve, Li Long, Al Shrani. Forse ci sarebbe stato bene un altro difensore, però. Liu Bin Bin, Al Shrani. Ribattuto malamente, Cedric. Cedric si invola, Cedric si invola. Qui in mezzo c'è Steve, che ci fa il primo gol. E però è ripartito veramente da un contropiede bruttissimo. Subbiamo il primo gol del nostro campo di questa... No, non è vero, ne abbiamo presi tre dal... Dal... Come si chiama? Dal Guangzhou Evergrande. Però me lo sono dimenticato. Hao Jun Min, Liu Bin Bin. Diaoli Sheng. Zhang Zizè. Dentro per Carneiro! Che fa gol, ma è in fuori gioco. Peccato. Al Shrani. Zhang Zizè. Ruba la palla. Carneiro, Carneiro, Carneiro. Dentro, però sbaglia il passaggio. Lo sbaglia veramente male. Peccato perché se lo appoggiava, secondo me, Xiaowei lì lo... Lo prendeva in pieno. Hao Jun Min, Liaoli Sheng. Largo per Liu Bin Bin. Zhang Zizè. Per Carneiro messo giù. Questo era rigorissimo. Questo era rigorissimo. E va Carneiro per il pareggio. Carneiro pronto a battere. E spiazza il portiere. 1-1. Bravo Carneiro. Terza rete della stagione. Prima rete, peraltro, in campionato. Sì, perché la volta scorsa non ho proprio giocato. Zhang Guang. Ribattuto. Waxxar Zinfu è passato in vantaggio. Jimbo. Ribattuto. Ancora Jimbo. Possiamo ripartire. Al Shrani. Velocissimo. Liu Bin Bin. Hai tanto spazio. Hai anche tanti difensori. Zhang Zizè la recupera. Potrebbe crossarla dentro. Carneiro non ce la fa. a incornare bene. Un po' stanco Xiao Wei, eh. Zhang Zizè. Liu Bin Bin. Carneiro. Liu Junshai. Liao Li Sheng. Zhang Zizè la potrebbe ributtare dentro. Xiao Wei. Di testa. Dong Chunyu. Chiude la porta. Non era un gran tiro, eh, comunque, perché era abbastanza lento. Cedric. Li Long. Possiamo richiuderlo, magari? Piao Xiao. Jimbo. Steve. Madonna. Parate palo. Però non su corner. Yan Ziao. Zhang Zizè. Ribattuto. Hao Jun Min. Zhang Zizè. Xiao Wei. Il portiere la toglie. Bel tiro, però. che ha passato in vantaggio come i tiri in porta, non che questo. Cambi molto. Spendiamo ancora un po', va. Il 66% di Xiao Wei. O passo col 4-3-3. Certo che non ho tutti stessi centrocampisti ce ne sono, però. Steve, Steve, Steve. Chiuso benissimo da Zhang Zou, che sta imparando molto bene da Freire. Molto bene sta imparando Zhang Zou da Freire. Hao Jun Min. Per Al Shrani. Che vede la fascia libera. Passa Liu Bin Bin. C'è Carneiro in mezzo. Perché tiri che c'era Carneiro in mezzo? Perché tiri che c'era Carneiro in mezzo? Yan Yong Ling. Liu Jun Shai. Hao Jun Min. Zhang Zizè. Che palle. Xiao Wei. Zhang Zizè. Carneiro. Zhang Zizou. Yao Li Sheng. Hao Jun Min. Carneiro dentro per Xiao Wei. Che spreca tutto, ma poveretto. Sarà anche veramente molto stanco. Arriviamo a meno fine primo tempo, poi ti cambio. Passiamo al 4-3-3. Trentaquattresimo. Trentacinquesimo. Jimbo. Libera. Cedric va al tiro. Ribattuto. Possiamo ripartire veloci con Xiao Wei. Scambio velocissimo con Liu Bin Bin. Liu Bin Bin. Che salta l'uomo. Dentro però sbaglia tutto. Yang Zhao la ributta dentro. Xiao Wei. Fallo. 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 Ah, ma aspettate un attimo. Io ho Wen Jiabao che non sta giocando. Non Wen Jiabao. Zhang Wei Peng. Io c'ho un altro... Ah, la sinistra che non sta giocando. Sono un cretino. Steve. Tattiche. Che Wuxing Gun. Conferma. Io non l'ho fatto giocare. Zhang Tzu. Me lo sono proprio dimenticato. Yan Zihao. Pallone lunghissimo. Dove non c'è nessuno però. Ripartono loro. Li Long. Lungo per Jimbo. Pallone dentro. Pallo. Un po' patendo, eh. Sto giro. Liu Bin Bin. Pallone lungo per Zhang Tse. Si riparte. Fuori gioco. Niente da fare. Niente da fare. Liaoning intanto ha preso il volo. Sta facendo varanghe di gol il Liaoning. Pogliatoio. Potete giocare meglio. Continuate a giocare così il risultato arriverà. Si, in realtà più o meno, ma... Wang Bin. Jin Bo che rischia di scivolare e mantiene la palla. Piao Xiao. Ancora Jin Bo. Lungo dove però non c'è nessuno. Si sono un po' chiusi probabilmente. Liu Jun Shai. Ao Jun Min. Liao Li Sheng. Liu Bin Bin. Zhang Zizze dentro per Wuxing Gan. Però che bella apertura che ha fatto Zhang Zizze. Wang Bin. Li Long. Oggi un minio lo chiude. Si riparte da Zhang Zizze. Wuxing Gan. Stiamo salendo lentamente. Loro sono già subito ben chiusi. Liu Bin Bin. Bravissimo. Se adesso mi azzecchi anche il cross. Wuxing Gan. Messo dentro ci fa il 2 a 1. Messo dentro e ci fa il 2 a 1. Perfetto. Perfetto. Cinquantunesimo. Lo Yang Tzu accorcia sul Wuxing Gan. Bravi ragazzi. Zheng Zhuang. Libera Zhang Tzu. Al Shrani. Zhang Wei Peng. Ancora libera Yan Zihau. Carneiro. Largo per Wuxing Gan. Largo per Wuxing Gan. Carneiro ancora. Liu Bin Bin. Il tiro. Ribattuto da Dong Chun Yu. Hao Jun Min. Eh no. Però non ce la fai vedere. Liu. Le Nanne ne sta perdendo a valanghe. La squadra con cui abbiamo giocato noi. Il Renè sta pareggiando. No. 0 a 0 sta perdendo. 2 a 0 contro Wuxing Gan. Zhang Guogang. Piao Xiao. Wang Bin. Zhang Tzu libera. Wang Bin. E ancora libera. Porco cane. Però fuori gioco. Un altro cambio a centrocampo. Weng Jabao al posto di Liao Li Sheng che non ne ha più. Al Shrani. Zhang Zizhe. Carneiro. Wuxing Gan. Wuxing Gan. Fuori. Oh. Il Renè sta addirittura accorciando. Cedric. Al Shrani recupera palla. Zhang Tzu. Weng Jabao. Quanto scambiamo bene nel piccolo. Quanto stiamo giocando bene. Wuxing Gan. Carneiro. 3 a 1. E la chiudiamo qua. No. Però adesso cazzo. Quest'anno. Per carità. Abbiamo dei giocatori migliori. Però quest'anno. Guardate come stiamo giocando bene. Che passaggi che facciamo. Che l'anno scorso non riusciamo ad azzeccare un passaggio. L'anno scorso non azzeccavamo un passaggio. Carità. Non è una formazione forte questa eh. Però anche con altre partite. Facciamo dei gran passaggi. Siv. Fuori. 78esimo. Anche Aujun Min dovrei cambiare. Oppure Yazir Al Shrani. Anche lui non ne può più tanto. Solo che Tang Miao non è tanto in condizione. Non andiamo così va. Steve. Jinbo. Forse lo chiudiamo. Zhang Guang. Cedric. 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 Ribalta tutto. E la palla esce. Yang Yung Ling. Zhang Tzu. Liu Bin Bin. Lancio lungo per nessuno. Carnero si avventa. Carnero si avventa. Ma viene parato. Parato. Wen Jiabao. Yan Zihau. Zhang Zizze. Wen Jiabao. Liu Bin Bin. Il Guangzhou è grande. Sta perdendo? Di nuovo? Al Shrani. Zhang Zizze. Al Shrani. Carneiro. Che oggi ha fatto quello che doveva fare. Un rigore procurato e trasformato. E un gran gol. Siv. Niente. Al Shrani. Zhang Zizze. Al Shrani ancora. Ripartono loro. No. Wen Jiabao. Incorre il pallone. Evita qualunque rischio. Ao Jun Min. L'ultima azione sarà nostra. Yan Zihau. Wuxing Gun. Wan Zihau. Wen Jiabao. Al tiro. Poi. E finisce qua. 3 a 1. Quello che dovevamo ottenere l'abbiamo ottenuto. L'abbiamo ottenuto. E adesso possiamo guardare. Tutti dall'alto imbaciuti. No. Perché alcuni hanno giocato bene. Energico. Ben fatto. Boom. Ragazzi. Direi che per oggi è tutto. Domani ci aspetta. Beh beh beh. Siamo solo più 5 squadre. Tra cui Waxaxinfu. Il. E lo Shanghai Seek. Perché sono quelle un pochettino più pericolose. Carneiro in evidenza. E loggia la prestazione. È stato superlativo. Bene. Mi ha fatto piacere il risultato. La sua presenza è di fondamentale importanza. Eh eh. Ah. Perché una volta giocava da noi. Ha giocato un sacco di partite da noi. Per quello. Va bene. Direi che per oggi è tutto. Prima di chiudere. In realtà. No. Per oggi non è tutto. Andiamo a vedere come vanno i campionati europei. Partiamo dalla Champions. Partiamo dalle cose. Un briciolino più serie. Competizioni per club. UEFA Champions League. Allora. Siamo all'andata. Al ritorno degli ottavi di finale. Allora. Il Manchester City ha eliminato Siviglia. Peraltro per i gol di trasferta. Il Manchester United ha eliminato per un totale di 4-1 Bayern Leverkusen. Il Bayern Monaco ha eliminato il Chelsea. Il Real Madrid ha eliminato il Borussia Dortmund. Il Real Madrid ha eliminato Antonio Conte. E. Aspetta un attimo. È finito già. Al Manchester City. Vero? Massimiliano Allegri. Adesso mi ricordo. Il Napoli. Molto probabilmente eliminerà il Red Bull Leeds. Si è visto che ha vinto 3-0 l'andata. Il Barcellona sta incredibilmente perdendo contro il Liverpool. Il Barcellona di Mancini. E beh. Non ci voleva altro per capirlo. Il Paris Saint-Germain pareggia con il Benfica. E la Juventus ha vinto l'andata a Oporto. Bene. Direi che andiamo a vedere adesso i campioni. Beh. Andiamo a vedere anche la Coppa UEFA. Già che ci siamo. Nell'Europa League. L'Unica. C'è ancora Udinese e Inter. Roma-Villamereale. E il Milan ha perso l'andata con il Feyenoord. Peccato che Udinese e Inter si elimineranno. Una delle due eliminerà l'altra. Liverpool. In Premier. Domina il Chelsea. Il Chelsea di Luis Enrique davanti al Manchester City. E al Manchester United. Nella Liga. L'Atletico Madrid. Davanti di così tanto al Real. Caspita. Conte si sta venendo una bella scoppola. Chi c'è adesso al Chelsea? Posso dire. Ah sì. Luis Enrique l'ha appena guardato. È vero. Niente di particolare. In Serie A. Beh. La Juve minchia. 12 punti di vantaggio sul Milan. Poi il Napoli e l'Inter. E poi la Roma al Fiorentino-Udinese. Non c'è niente di strano in fondo alla classifica. in Bundes che adesso è passata dal secondo al quarto posto. Domina il Bayern Monaco davanti a Borussia di Dortmund. Al Red Bull Lipsia. E al Wolfsburg in Ligue 1. Non voglio neanche vedere. Beh. Dom vince ma non di tanto. Non sta propriamente dominando. Insomma. Contando cosa potrebbe fare Paris Saint-Germain. Contando cosa ha davanti. Va bene. Direi che con questo è tutto. Ci vediamo domani. Sempre qua su Football Manager. La partita con il Liaoning. Ci aspetta. A domani. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Grazie a tutti